500.000 spettatori l'anno, di quelli dei primi film, prendo sempre quello sofferente e normalmente è sposato Tipo qua che vedi? Qua che potrebbe essere? Qui che potrebbe essere? Siete fidanzati voi due? Sposati, ecco Infatti l'hai preso Incredibile L'hai preso subito Poi in una sala dei giovani c'è qua Sposati secondo me, pochissimi Se me rispondi a questa me ne vado Questa chiude la serata C'è delle case di proprietà? Metà per uno? Lui è convinto che c'è a casa a metà Lei lo sa che non ce l'ha a casa a metà Ce l'ha 100 E lui che dice no, ce l'hiamo a casa insieme Lei io lascia di per comodità Quando te lasci tu puoi abitare da tu madre E lei c'ha a casa Stai a cominciare a pensare che ho fatto la cazzata che ha a casa? Ha preso il mutuo? Dopo di questo lavoro faccio il veggente